Se vuoi atterrati staccamo la telecamera, so come ti pare a te. Come si, non lo faccio a te. Ti ricordi che tu tagli un po'? A che noi gli abbiamo tagliato un pezzo al naso, tu adesso? È nato sotto, gli è nato e... Ma sotto? Ti mangio a fare. L'aria la fa. Se tu vai nelle zone del mare, c'è l'acqua e fa un botte di... si arriva fino all'aereo eh perché è limitato ok non c'è un atterraggio ce l'ha un po' tosto dici